Peccato davvero, aveva fatto tutto bene. Un punto di riferimento per i suoi. Che conclusione! Prova il filtrante. Sicuro qui il portiere nell'intervento. L'età difensiva negli ultimi tempi. Prova con la palla lunga. Da lì può concludere. Ci prova! E qui forse meritava un giallo. Richiamo per adesso è solamente verbale. Cerca spazio. Tocco preciso. Si coordina per il tiro. Il pallone è dentro! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Buon fine. L'avversario non ha fatto buona guardia. Forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Se ne va! Ci arriva di nuovo. E c'è ancora un gol! Cerca il tiro! E c'è il gol del Napoli! Fondo. Un intervento pulito. Gran giocata difensiva. La conclusione. E il pallone finisce in rete. E questo gol da loro ancora maggiore. Può calciare a rete. Conclusione! E c'è ancora un gol! Un 1-2 veramente da K.O. Prova la giocata nello spazio. La conclusione! E sì! Trova la rete! E tutto solo là davanti. Si avvicina la porta. Occasione! Prova a passare con un pallone profondo. Prova il tiro! Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debaglia. Una sconfitta del genere...